Ieri la grande festa bianco-azzurra col Pescara ormai in Serie A, forte di record di calcio champagne, che ha tributato il giusto riconoscimento ai propri Beniamini, un congedo commovente, quello del Pescara di Zeman dai 90 gol, l'ultimo quello di Maniero al 92esimo contro la Nocerina e dai giovani ormai calciatori veri, pronti alla scala del calcio. Il presidente Daniele Sebastiani è pronto anche lui a dare un seguito. Le sue sono state parole di grande ringraziamento, soprattutto per Zeman. Vincere un campionato così come l'abbiamo fatto noi è qualcosa di straordinario. Qui a fianco a me ho l'artefice principale di questa grande cavalcavata. E la città spera, quasi implora, il boemo a non lasciarla in altre mani. Sibillino, come al solito, Zeman. Voglio dire solo grazie a tutti e principalmente ai ragazzi. Chiamateli. Si attende ora la sua decisione. Il tecnico è atteso a Roma per un incontro con i vertici giallorossi e solo nei prossimi giorni comunicherà la decisione. Le percentuali della sua permanenza sulla panchina bianco-azzurra sono scese, nonostante le straordinarie manifestazioni di affetto della città. In caso di separazione il primo nome per la successione è quello di Delio Rossi e il suo sarebbe un ritorno. E poi ancora la lista comprende Giampaolo, Calori, Mangia ed anche Eusebio Di Francesco. Finita la festa, domani Zeman dirigirà il suo ultimo allenamento. Mercoledì la sua decisione ufficiale.